Ed eccoci qui allo stadio di Maglia, siamo con il presidente Gianluca Landi, con il direttore sportivo Andrea De Luca per celebrare questo ritorno del calcio giocato, questa sera con la prima giornata del settembre lucchese e quest'anno c'è questo nuovo accordo, c'è questa nuova idea e proposta che si gioca anche allo stadio di Maglia. Gianluca Landi, insomma, soddisfazione di ospitare questo torneo e soprattutto di essere ripartiti con il calcio giocato. Sì, direi è molto molto positivo questa cosa, finalmente dopo diversi mesi riusciamo a organizzare una partita ufficiale, sicuramente una cosa positiva, cercando di lasciarci alle spalle tutte le problematiche che abbiamo avuto, sempre però seguendo i vari ordinamenti legati alla sicurezza in ambito Covid, per cui controllati da quando entriamo a quando usciamo, e però ben felici anche e orgogliosi di questa richiesta e collaborazione a cui abbiamo aderito veramente con piacere per cercare di riportare il calcio, anche quello importante del settembre lucchese, che è un bel torneo a livello regionale, portarlo qui allo stadio di Maglia. Ecco, Andrea De Luca, tra l'altro vi faccio i complimenti perché già eravamo venuti tempo fa, insomma, qua c'è un lavoro continuo di ammodernamento dell'impianto, c'è veramente un ambiente che poi vi faccio anche vedere, qua c'è tutta l'area ristora, ora ne parleremo anche magari con il Presidente, torneremo a parlare di questo. Insomma, qui c'è un ambiente che la Fulgormaglia sta, insomma, ritornando a lavorare come qualche anno fa, forse anche meglio, ecco, il tempo poi sarà galantuomo. Allora, aggiungo una cosa soltanto, l'ultima partita che sarà fatta della stagione calcistica scorsa sarà fatta qua, se ci ricordiamo è stata la finale di Coppa Provinciale, Coppa Provinciale, la terza categoria, dopodiché è stato chiuso e si riprende allo stadio di Maglia. Cos'era, il 9 febbraio? Sì, mi sembra era all'incirca. Mercoledì? Era un mercoledì, era l'ultima partita che sarà fatta, c'era anche tanta paura perché c'era quel popolaio a Segromigno, insomma, e quindi riprendiamo dopo sei mesi, dopo sei mesi, siamo orgogliosi di questo e abbiamo, da quando abbiamo ricominciato, diciamo, da giugno, appena siamo potuti rientrare nell'impianto, abbiamo subito cominciato a lavorare qua nel bar e in tutta la struttura per renderla ospitale per tutto, e perché ci aiuta a diventare e a fare un po' un progresso della nostra società perché abbiamo riorganizzato tutta la parte, diciamo, tecnica degli allenatori e abbiamo aggiunto tantissime persone, insomma, stiamo cercando di riorganizzare tutta la società, ci vorrà qualche anno, però la strada intrapresa secondo noi, per forza deve essere quella giusta, però solamente il tempo dirà se stiamo lavorando bene o meno. Ecco, Presidente, lanciamo da qua anche, come si può dire, l'invito, chi volesse venire la sera qua a vedere le partite, c'è una cucina, c'è un'organizzazione e quindi c'è la possibilità di stare qui al fresco, ora magari vi faccio vedere anche fuori perché avete messo anche i tavolini all'esterno, c'è la possibilità di venire a cena qui a Marlia e guardare la partita e mangiare. Certamente, come diceva De Luca, abbiamo cercato di rinnovare tutto l'ambiente e soprattutto l'abbiamo fatto in funzione degli ospiti che possiamo avere, quindi tutto il mese di settembre e incluso anche domenica e pomeriggio ci saranno delle partite qui allo stadio, la sera alle 8, la domenica e pomeriggio dalle 3 in avanti e quindi c'è la possibilità di avere ristoro, di mangiare, bere. So che vi siete organizzati anche con i tortelli. Siamo organizzati con i famosi tordelli luttesi, anche a Casalinghi, a Regola d'Arte. Vi assaggeremo, pizza, focaccine, hot dog, eccetera. Per cui, chiaramente anche per le squadre e per i genitori che vengono a vedere le partite. Chi vuole mangiare qualcosa nell'attesa o durante la partita c'è la disponibilità piena di servire e di rendere la visita gradevole più possibile. Ecco, io voglio anche uscire un attimo, vi lascio un secondo e poi vi saluto per far vedere proprio, ecco, vedete qua i tavolini all'esterno, vedete qua dove si può cenare anche durante le partite. Insomma, vedete l'ambiente che è stato creato qua a Maglia, il terreno di gioco in condizioni ottime, in condizioni bellissime direi per affrontare questo tour de force. Ecco, Andrea e Gianluca, allora pronti e complimenti alla Folgor Marlia. Da qui, insomma, tutte le sere partite, quindi chi vuole venire... Volevamo ringraziare Toscana e Gol che ci ha permesso insieme all'organizzazione del San Macario di essere aiutati, quindi grazie anche a voi che ci avete permesso di aiutarvi. Fratto, l'ultima cosa che diciamo, Presidente, le finali poi del settembre lucchese quest'anno saranno qui, ecco, come l'anno scorso, ecco, quindi l'evento, anche questo, arriveremo ai primi di ottobre. Sicuramente sarà un altro bellissimo evento che siamo orgogliosi di ospitare. Perfetto. Mi associo a ringraziamenti a Toscana Gol e l'organizzazione del San Macario, perché sicuramente è una collaborazione che può continuare in futuro. Perfetto, allora vi aspettiamo a Maglia per le partite del settembre lucchese, e altro. Grazie.